Ehi tu, sì dico a te, vorresti vincere questi e tanti altri premi? Allora iscriviti subito al mio canale, segui i miei video perché al raggiungimento dei primi 250 iscritti partirai il primo dei tanti concorsi a premi che organizzerò proprio su questo canale. Allora che aspetti? Non lasciarti scappare questa bellissima possibilità, non ti costa nulla. Iscriviti al mio canale e ci vediamo dall'altra parte! Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Seven Days to Die, sempre in compagnia di Rocky. Ciao a lei! Sono sbottato le cast di giù e sono sistemato il torto. Oh, meno male! Allora, scolla qui. Vai, un altro motore! Buono, buono, che servono! Qui c'è un'altra bella macchina. Ma certo che qua si stiamo riempendo proprio il cibo. Il macete! Lo schema del macete! Uh, il cricchetto! Vai! Cricchetto poi di quinto livello, eh! Eh, io utilizzo questa adesso che prenderà più risorse. Vediamo. Questo ci sarà più possibilità di prendere un motore. Infatti, non ha preso un cacchio di niente, né motore, né batterie. Cioè, iniziamo bene con il cricchetto. Eh, un gigante della neve che piccolino. Quanto Giacomo di Aldo Giovanni ha. Vieni, vieni, bello, vieni. Eh, un'altra macchina. Tutte, tutte me le devo fare. Io non so che sportello sta aprendo. Che non c'è sportello. Uh, due ruote! Vai, un altro motore! Mi ha visto quello? Sì. C'è una merdi... Ah, no, c'è quello, il panzerotto. Eh, che c'è una borsa? Ah, sono rifiuti. Ma è proprio piombo, buono. Sì, un sacco di ottone stiamo trovando. Vai! Sì, batterie. C'è una propria go-go qua. Chi è? Lo spider. Perrazzo di stupido zombie. Ok, adesso la potrei fare quella... Uh, leone! Non è stato lì, amico. Non ti posso uccidere adesso. Vai, due mac... Ma ho quattro macchine, sì! Il paradiso delle macchine. E vai, un fucile a leva! Lucas, leva! Parti di manganela, ma chi se ne frega! Vabbè, tutta a vendere quelle cose. Ma quanti radiatori che sto a trovare! Cioè, sta un leone vicino... E poi c'è un coniglio. Cioè, l'eone non se lo caga nemmeno il coniglio. Deve stare a rompere a me, pure. Che parico, che adesso deve rompere quello. Muoviti, muoviti! Oh, ma l'avete rotta, eh! Oh, proprio, stiamo riempendo proprio la Castel Cinco. Buonissimo! Con le piste, eh! Oh, c'è un avvenimento. Oh, la missione è vicino allo stadio. Ci penso che mi fanno accendere il riflettore dello stadio. Eh, sì, lo aspetta. No, no, no. Penso che sia la scuola. No, parcheggio. Questo è un nuovo edificio. È di fronte alla polizia. Oh. Sì, sì, questo è un nuovo edificio. Poliziotto. Vai, cerco di non farti uccidere, eh. Mamma mia. Stava per esplodere. Quando vedi che scappa, sparagli. Eh, no, ma io non lo faccio arrivare che scappa. Quando si sente il cuore che fa tutun, tutun, tutun. Lì è che sai che deve scappare. Allora, entriamo prima. Freghiamoci un po' di roba. Aiuto! Visuale notturno. Vediamo che c'è qui. Zuppa di me, insomma, feccate. Oddio, io sento qualche cane. Scusa, non posso chiudere una porta qui? Sì, sì, chiudi. No, non si può chiudere. Quando le porte sono a due che sono aperte, non le puoi chiudere. Qui nel cesso non si può aprire. Ok, io ho sistemato tutto. Dovevo andare in una parte. Ma sta lontano? Eh, vabbè, io vado io. Oggi ho scoperto una parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. Dove stai? E ti ho detto, sto vicino allo stadio. Ah, è bene. È bene. Ah, zò, fa vedere cosa si è per fare le blake. Che le inizia a fare. Oh, oh, quanti zombie stanno qui. Tutti a dormire. Cacchio, c'è un orso contro uno zombie. No, no, ve lo devo far vedere perché poi si vedrà nella registrazione. Vediamo chi vince. Ha vinto l'orso zombie. Eh, no, sì. Eh, non lo posso nemmeno aiutare. Non vi posso nemmeno aiutare. Però che è bello vedere che almeno non se la prendono solo contro di noi tutti. Oh, è morto lo zombie. Ha vinto l'orso, ovviamente. Solo che se io esco e c'è quest'orso Ah, c'è il mirino qui. Se io esco quell'orso mi fa pezzi. Nooo, uno zombie radiattivo. No, non è radiattivo. È la luce. È la luce che stava dietro di lui. Che lo faceva sembrare radiattivo. E sopra ci deve essere il il generatore. Cioè, hanno messo degli spuntoni in un punto dove io non posso salire. Ah, sì, posso salire. Ma vedi quanti ce n'è su? Ah, le play. Caffole con là. Il petrolio serve ovunque. Eh, ma il petrolio... Un altro zombie sta attaccando... Vai! L'orso zombie sta attaccando un altro zombie. Vai! Sì, sì, uccidimi. Non ti preoccupare che io dalle macchine trovo sempre l'olio. Cacchio, ma... Cazzo, latini e volte non le distruggirei più. Che serve. Ah, ma, meno male. Vedi che quelle le puoi fare pure dalla forza. Ma doveva qui? Come cacchio devo fare? Devo trapanare. E perché devo salire da qui? Wow, che c'è? Ho già visto una cassa buona. Eh no, devo creare dei... C'ho il legname, sì. C'ho il legname. Posso fare le salgome. Ok, intanto faccio fare le... le latine, meno lontano. Appena vengo inizio a fare tutto il petrolio. Ecco le altre. Maledetti di... E' sempre... E' sempre alle spalle, venite. Oh, fammelo riparare questa mazza. Ancora si rompe nel momento stesso in cui io sto attaccando. Ehi, ecco le altre. Venite, venite. Le faccio un culo così. Ah, ah, ah. Gli ho tolto il telaio. Sono caduti. Vedi. Allora, qui ci deve essere del cibo. Vediamo che c'è dentro. Oh, brodo in scatola. Che schifo di brodo che sarà. Vai orso, uccidili. C'è sotto pure un cane. Ehi, c'è un portatile. Un computer portatile. E' meglio, c'è la base. E' meglio, c'è la base. Ah, che è? No! Madonna mia. Madonna mia, meno male che mi sono fermato. A un certo punto. Cani. Cani sul tetto, cavolo. Fur tetto, ci sono i cani. Oh, incredibile. L'hanno infettato, mortacci loro. M'hanno tagliato. C'è una benda? Oh, ha finito il sanguinamento. Avete i maledetti cani, oh? Due cani sul tetto con 200 buchi non sono caduti. Uh, li vedi gli altri zombie. Oh, ma da dove cacchio sta il generatore? Ma, che stupido. Io non ho attivato la missione. Eh, vabbè, comunque, non attivandola. Mi ricapitano tutte quelle macchine da scrappare. Ma ti sei portato il coso per attaccare la corrente? Non c'è bisogno. Ah, non c'è bisogno. Ok, come l'ha fatto l'attacco con le mani? Deve spingere un portone soltanto. Ma che missione? Eh, sì, però, lo devi tenere premuto. Se ti ricordi, quelli qui si mettono a correre, gli zombie. Eh? Eh, sì, l'ho già fatta la missione. Non te lo ricordi che l'ho detto? Ah, è vero, è vero, è vero. Tu... Eh, io devo stare molto attento. Molto, ma molto attento. Quindi mi devo riparare tutte le armi. Mi devo curare perfettamente. Noi iniziamoci a prendere questa pillola qui. Perché qui si va male. Ho già visto un'altra bella macchina. Allora, bevi l'acqua. Cioè, con tutti gli zombie che ho ucciso, ancora sta la... la falce della morte, lì. Che devo... Eh? Sì. Eh, manca pure. Allora. E sotto c'è pure l'orso zombie. Allora, vedi quella stronda. Poliziotto! Ucciso per un pelo. Mosca. Altro motore. Oh, dopo, qua dov'è mettere sta puntata. Vedi dove sono andato? Che bel posto che sta. No, vediamo. Nell'autobus che cosa c'è di buono? Un cacchio di niente. Uno zombie radioattivo. Eh, dai, fammelo uccidere. O se almeno mi... Eh, questo è... Adesso è comparso. Con la luce fosforescente. Vieni, vieni. Eh, con un colpo l'ho ucciso. Cioè, quelli stanno a fare un casino là sotto. Magari l'orso entrava. E mi dava una mano. Sfuccellaccio. Ok, ragazzi. Se avete preso questa puntata, mettete mi piace e iscrivetevi a tutti i più canali. Intenduto da me e da Rocky. Ciao! 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 Ciao!